ecco i miei capelli sembra che sono pelato però vabbè ciao a tutti ragazzi sono marty vj ed oggi siamo in un nuovo video oggi giocheremo a cooking mama che me l'hanno chiesto che me l'ha chiesto chiesto alice e elena ciao ma prima di iniziare direi di salutare i miei amici che sono elena, eleonora, andrea, chiara e luca ciao 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 di nuovo e direi adesso di partire col gioco e da questo gioco ho capito che praticamente devi cucinare i tuoi genitori lo mangiano se è buono ti danno i cuoricini questo è quello che ho capito però non sono ancora comunque faccio questo gioco che è meglio ok eh bene ok va bene ragazzi siamo su cooking mama grazie chicken ci stanno un po' di pubblicità perché è scemo fast food abbiamo solo questo ready partiamo con questo gioco livello 1 livello 1 3 stelle certo oddio c'è sta ciao vuole uno dog e una bibita e una bibita e poi questo lo metto qua faccio schifo tieni no come si fa aspetta signora un attimo va bene sono incapace lo so ciao ciao un hamburger che sono già in ritardo non riesco a fare la bibita aiuto datemi consigli non so fare niente c'è l'insalata l'insalata dove cacchio sta l'insalata ah eccola ecco l'insalata dove ok ok respira 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 non capisco aiuto c'è questo che vuole una bibita anche lei però stai calma non è colpa mia vuole anche i pomodori dentro tieni e tieni anche lei oddio beh sto facendo un pochetto soldini ma sono scarso scusami zio un attimo sono molto tragico adesso ok eh questa vuole un panino questa vuole un panino una bibita va bene ragazzi beh una stella scusa io io sono ancora incapace però comunque a livello 1 è una stella io faccio schifo sto gioco è troppo difficile è livello direi di fare il livello 1 di nuovo voglio rifare il livello 1 perché ok tu vuoi questo te lo faccio subito intanto vuoi la bibita poi questo si mette qua e magna ok 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 vuoi la carne e poi anche questo che è qua e poi qua tieni e poi questo qua tieni ok sto migliorando eh qua solo una cosa e poi questa vuole oddio ok con il ketchup anche ketchup ketchup veloce 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 tieni tieni questa ok l'hamburger 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 veloce ok poi solo questo vuole intanto dopo poi metto questo qua ok ce la sto facendo ce la sto facendo ok 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 hamburger poi quello intanto metto questo poi metto questo magna ok ok ce la sto facendo incredibile ce la sto facendo tieni 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 poi lui lui dai ce la faccio ce la faccio non ce la faccio sono a due stelle credo due stelle una stelle due stelle ok ok vai questo è facile da fare intanto li metto questo qua questo questo tieni poi questo intanto tieni da bere ok ce la faccio spero veloce c'è questo poi c'è questo tieni ok c'è allora ok 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 e poi metti i pomodori però oddio ha le patatine questo oddio e dove stanno le patatine ah ecco care non so giocare io tieni ok tieni e anche l'insalata tieni ok hamburger soltanto così poi questo al sete tieni poi questo questo e poi il ketchup poi intanto le patatine come cacchio non posso le patatine sono scherzo a sto gioco porca miseria e le patatine ma come cacchio si fa a mettere le patatine niente le patatine io non ce le ho mi dispiace no invece di darle lo faccio stupido eh lo rifaccio stai tranquillo stai tranquillo te lo rifaccio insalata lei insalata insalata tieni mi aggiunge una stella no una stella no il livello 2 è una stella non ci credo direi di fare il livello 2 aspetta ma io non ho capito eh le patatine le patatine io non so io direi di rifare cioè il livello 2 poi rifaremo il livello 1 non lo so vabbè ma io non ho capito niente sto gioco tieni soldi continuo ok questo ok o diventa ancora più difficile anche se non l'abbiamo appena iniziato veloce e stanno arriva molti più clienti ok sto diventando matto 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 sto diventando intanto questo questo mettiamolo qua ok poi c'è questo poi c'è questo e poi vai ok poi e questo non credo che ce la faccio eh eh non credo tanto dagli da mangiare è bene questo poi va bene ragazzi se questo video vi sia piaciuto mettete un bel mi piace anche la pag- la pagina? ma non ho una pagina spolliciate iscrivetevi attivate la campanellina e ciao ciao